Garnieri e Daniele Gini Allora Nicola cosa ci farete spostare questa sera? Allora noi siamo un gruppo per orecchie un po' meno dolci e i nostri beni sono un pezzo dei Ramon, un gruppo punk americano che si chiama Penzini Terry l'altro è un pezzo di Ritzviva, un gruppo italiano e l'altro è un pezzo di Blair, un gruppo inglese di genere pancro Ok allora cambiando registro vi auguro un buon ascolto Grazie 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 Grazie